Salve a tutti ragazzi, appena finito l'allenamento, adesso la Sprite, un allenamento particolare perché ho un ospite speciale, vediamo se lo riconoscete, dalle gambe ragazzi, dalle gambe mamma mia, guardate la muscolatura, è il doppio della mia, è il doppio della mia ragazzi Ciao ragazzi, Fabio Cali direttamente da Roma qui a Viterbo, da casa mia ragazzi ci siamo allenati insieme, un allenamento spettacolare ragazzi, non potete capire che allenamento allora ragazzi, il video però non esce sul mio canale, esce sul suo perché l'ha fatto lui quindi iscrivetevi a tutti i miei fans, iscrivetevi a, come si chiama il tuo canale? Fabio Cali, bike channel, iscrivetevi e aspettate un giorno, quando esce? Un paio di giorni, un paio di giorni che fa il montaggio doc e vedrete novità ragazzi pollici in su sempre, iscrivetevi al suo canale, perché è gratis!